Un'invasione senza fine, un'emergenza senza soluzione di continuità. L'ennesima si registra questa mattina nel canale di Sicilia. Un elicottero della nave Amfibbia San Marco ha individuato a sud-est di Lampedusa quattro imbarcazioni con a bordo oltre 450 migranti. Il pattugliatore Vega inoltre ha individuato sempre a sud-est di Lampedusa un'ulteriore imbarcazione con circa 100 migranti a bordo. Costatata la scarsa galleggiabilità e il sovrannumero di persone a bordo, la nave Vega ha dichiarato la situazione di emergenza. Quelli di oggi sono i primi sbarchi di migranti nel mese di febbraio. Quello appena trascorso gennaio 2014 ha fatto registrare, secondo i dati del Viminale, un record. 2.156 migranti approdati contro gli appena 217 dello stesso periodo del 2013. Dati in crescita esponenziale, tanto da spingere il governo a dichiararsi pronto a ridurre i tempi massimi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione che attualmente si concretizzano in 18 mesi e ad innalzare gli standard qualitativi dell'accoglienza. Complessivamente lo scorso anno sono stati 2.925 gli sbarchi sulle coste italiane con un incremento rispetto al 2012 del 325%. Il numero di migranti sbarcati nel 2013 è di 42.925. Tra questi 3.818 i minori non accompagnati. La maggior parte di queste persone, ovvero 37.886 migranti, sono arrivate in Sicilia e di essi 14.753 a Lampedusa. Sempre nel 2013 la principale nazione di partenza delle imbarcazioni è stata la Libia, dalle cui coste si sono imbarcati 27.314 migranti, seguita dall'Egitto con 9.215 migranti e dalla Turchia con 2.077. Il principale paese di provenienza, individuato sulla base delle dichiarazioni rese al momento dello sbarco, è la Siria, con 11.307 migranti, in aumento esponenziale rispetto all'anno precedente, quando i siriani sbarcati erano stati appena 582. Dei 42.925 sbarcati nel 2013, quelli soccorsi in mare sono stati 37.258, di cui 6.127 in 47 operazioni effettuate nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, voluto dal governo dopo la strage del 3 ottobre a Lampedusa. E a proposito, anche il ministro per l'integrazione Keynes ha deciso di sostenere la proposta di legge del Comitato 3 ottobre per istituire la giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza.